L'educazione vuol dire andare oltre. L'educazione vuol dire non avere paura. L'educazione vuol dire avere la capacità di individuare un orizzonte, ma essere capaci tutti di andare oltre. La Fondazione Andrea Pocelli fa questo. Ha trovato degli orizzonti e ha costruito il modo di andare oltre. Lo sta facendo in Italia, lo sta facendo in tutto il mondo, lo sta facendo nelle situazioni più difficili. Lo sta facendo portando al centro le persone, i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine, e insegnando loro non soltanto a scrivere, a parlare, a cantare, a fare musica, ma soprattutto a vivere assieme. Per questo credo che quello che si sta sviluppando qui a Firenze, alla Fondazione Pocelli, sia una forte guida per un modo di ripensare la scuola in tutto il paese, in tutta Europa, in tutto il mondo. Credo che sia ancora una volta il catalogo delle possibilità che abbiamo di fronte. E quindi anche il dovere che noi abbiamo, noi tutti, di cercare il nostro orizzonte e andare oltre. Quattro anni fa nasceva l'istituzione della giornata mondiale dell'educazione, cioè l'accesso all'educazione per tutti. Sono contentissimo, fiero del fatto che la mia, la fondazione che porta il mio nome, voglia dar corso e concretezza a questa iniziativa, perché è ovviamente sull'educazione che si fonda la speranza di un futuro migliore, sia a livello individuale che a livello collettivo.